Sono 31 i casi positivi al coronavirus rilevati ieri in Campania su 1.839 tamponi. Lo rende noto l'unità di crisi. In totale, il complessivo dei contagi nella nostra regione è ora di 4.380 su 70.566 tamponi. Dati incoraggianti che tengono la curva sotto controllo al 2%. Nessun focolaio di covid, bensì un contagio circoscritto e prontamente isolato, quello che ha riguardato tre giorni fa quattro dipendenti dell'azienda ospedaliera di Caserta in servizio al pronto soccorso nello stesso turno di lavoro. Lo spiega una nota dell'ospedale casertano che fa sapere che l'indagine epidemiologica che ne è seguita ha ritenuto poco probabile che a contagiare i dipendenti sia stato un paziente. In queste ore Palazzo Santa Lucia sta programmando il ritorno in Campania dei residenti che sono fuori regione, ma con la necessità di avvisare l'ASL e di osservare due settimane di isolamento. Al proprio arrivo a casa. Questo è il punto di partenza previsto. Massima attenzione sarà data agli arrivi in treno. Nelle ultime ore, stando ai siti di prenotazione, Multifreccia Rossa e Italo sono praticamente esauriti. Segnale questo di un massiccio ritorno al domicilio di tantissimi cittadini meridionali. Intanto proseguono gli atteggiamenti irrispettosi delle norme anti-covid. I carabinieri nelle ultime ore hanno sanzionato a Melito, in provincia di Napoli, 12 persone che stavano prendendo parte a una festa in Corse Europa.